Il dato che sembra più certo è che l'Italia va verso l'ingovernabilità. Ciò che si temeva alla vigilia di queste elezioni si sta sostanzialmente verificando man mano che i dati affluiscono dalle urne. Alla Camera il Partito Democratico di Bersani ha quasi 9 punti di vantaggio sul PDL di Berlusconi, tiene bene Grillo che diventa con il suo 25% il secondo partito nazionale, riuscirebbe a superare la soglia del 10% il Premier Mario Monti. Ma al Senato il PD, pur avendo tre punti di vantaggio sulla coalizione avversaria, sconta in termini di seggi la maggiore penetrazione del PDL di Silvio Berlusconi con il suo principale alleato, la Lega, nel nord-est del Paese. Si fermerebbe a 104 seggi il PD, andrebbe a 124 seggi il PDL, andrebbe a 51 seggi Grillo che debutterebbe così anche a Palazzo Madama, si fermerebbe a 16 senatori Mario Monti. Così facendo nessuna maggioranza sarebbe garantita al Senato. Per chiudere due notazioni, una di politica estera riguarda le elezioni in Ecuador, elettori che hanno saputo scegliere in maniera netta il loro presidente Correa al terzo mandato che con il 57% dei voti lascia 30 punti indietro il rivale. E poi una freddura dal sito Spinoza. Una freddura che forse fotografa perfettamente la situazione in Italia. I dati sono in continua evoluzione, gli elettori no.